Abbiamo incardinato in Commissione Mobilità e Trasporti in Regione Lombardia una profonda revisione di questa legge, una legge che ormai ha 12 anni quindi ha necessariamente bisogno di essere rivista, revisionata, ammodernata per poter rispondere in maniera più efficace ed efficiente alle esigenze di mobilità che i nostri territori hanno. I trasporti, il trasporto pubblico locale è forse al pari della sanità uno dei temi più sentiti dei nostri cittadini e dei cittadini lombardi. Abbiamo ritenuto, l'assessore Lucente ha ritenuto di proporre alla Commissione di revisionare questa importante legge della nostra Regione, tra l'altro con una modalità piuttosto innovativa perché non si tratta di un lavoro già confezionato dalla Giunta che viene sottoposto e calato dall'alto al Consiglio regionale, ma è un lavoro che l'assessore Lucente ha voluto scrivere a quattro mani insieme alla Commissione, quindi in Commissione, in Consiglio regionale stiamo organizzando un gruppo di lavoro bipartisan maggioranza e opposizione che ha il compito di analizzare i pregi da mantenere e valorizzare di questa legge ma anche i suoi difetti per poterli superare e poter scrivere una nuova legge più moderna e più rispondente coi tempi. Come maggioranza abbiamo le idee chiare su che cosa vogliamo modificare e cambiare però per rispetto anche ovviamente del lavoro della Commissione e dei componenti dell'opposizione dobbiamo ancora riunirci e ci riuniremo settimana prossima per la prima volta quindi raccoglieremo un po' le sensibilità di tutti e cercheremo di fare la miglior sintesi perché l'auspicio ovviamente da parte nostra è questa, ci sia la maggior condivisione possibile nella modifica della legge. Quindi oggi è un po' prematuro anticipare dei temi di particolare revisione ma sicuramente da parte nostra vogliamo coinvolgere tutti nella proposizione delle questioni, dei temi delle sensibilità che vorranno portare alla nostra attenzione.